musica 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 oh lavo il che tu fai questi ma il modo adesso li fa l'antrezzo cos'è davvero li piange il cuore guarda e voi avete ragione zio e quando scappa scappa ci avessi della carta almeno ma che voi fate con questo impalato e datemi una mano a rizzarmi piuttosto vado in retro sanzone ora dirà la sua mamma a procuro dal notario a desiderarlo e perciò mio caro ti dico che il futuro è nelle potenne di maiale e non ci sono salvi se che tu mi consigli lascia perdere le fantasie rimesse della rabbia e compra maiali ma occhi chiusi guarda e che credi li guadagnava inico oh ma eccoci arrivati dal trippaio e sentirai il lampidotto che fanno qui e poi mi dirai eccoci arrivati oh buona giornata a tutti e come la sta la nostra moribonda ancora non ha tirato le cuoia bene bene ancora voi guardate vi ho già detto che non compriamo nulla oh va a comodare a questi gentili signori oh mamma ostate giù non va agitate ve l'ho detto anche il ceruzio guardate ho qui una bellissima bibbia illustrata ve la regalo oh Marta che hai sentito è un affalone mi perdoni guardi ora le mostro le bellissime miniature tutta a colori vieni vieni Loressio che i signori sono di molto interessati a prenderli a loro un cuore e allora la raccoglie il rio il rio il rio il rio il rio è il rio il rio il rio il rio il rio Grazie a tutti